Musica Per bar e ristoranti lo slittamento del limite significa 30 milioni di euro in più al giorno, una cifra importante, secondo i calcoli della FIEPET con Fesercenti. La stima, sempre per la Federazione Italiana degli Esercenti Pubblici e Turistici, è di un miliardo di euro di maggiori entrate. Il coprifuoco slitta di un'ora solo nelle regioni gialle, visto che in quelle bianche è stato rimosso del tutto. Che ancora penalizzato da questa situazione è l'industria del divertimento, in particolar modo le discoteche. Il ministro della Salute Roberto Speranza e il CTS, anche alla luce della scorsa estate, frenano. Ma non tutti la pensano in questo modo, a partire da due sottosegretari. Sileri dice che si deve consentire di tornare a ballare, ma con il Green Pass. Costa, invece, ha convocato un incontro con i gestori delle discoteche per domani e in più occasioni si è pronunciato a favore della riapertura. Il coprifuoco nella versione light rappresenta il migliore dei ristori perché consente di lavorare su più turni. Ma anche perché l'allentamento della stretta riverserà per le strade e per più tempo un maggior numero di persone. Sempre la Fiepet fa notare poi che con il coprifuoco allentato ci guadagna pure lo Stato per effetto del gettito erariale aumentato. Dall'inizio dell'emergenza al primo sostegno, assimato invece l'ufficio studi di Fipe e Commercio, il mondo dei pubblici esercizi ha ricevuto appena 3,5 miliardi di ristori, sufficienti a coprire una minima percentuale delle perdite. Lo slittamento alle 23 è valso un aumento del fatturato del 10%, mentre l'allungamento dalle 23 alle 24 porta un altro incremento del 7%. Il secondo anno scolastico dell'era Covid, anche questo, come il passato, in gran parte in didattica a distanza volge al termine. Terminano infatti le elezioni in sei regioni, Lazio, Lombardia, Basilicata, Abruzzo, Sicilia e Valle d'Aosta. Sabato scorso si sono già concluse in Molise, Marche, Veneto ed Emilia Romagna. E via via, con il passare dei giorni, suonerà l'ultima campanella anche nelle altre regioni. Tra i più grandi, quasi uno su tre sarà costretto per il secondo anno consecutivo a concludere le elezioni distante dai propri compagni, a causa di decisioni autonome prese da parte delle scuole per evitare assembramenti. Meno della metà degli alunni, poi, il 44%, dice che avrà una foto di gruppo ufficiale con tutta la classe schierata. E si pensa già al nuovo anno scolastico, che sarà, finalmente e auspicabilmente, tutto in presenza. I presidi dovranno rendere sicura la permanenza a scuola dei bambini e dei ragazzi che sceglieranno di non vaccinarsi, ha munito il commissario Figliuolo. Il vaccino è uno dei pilastri della lotta al virus, ha chiarito, ma per me nessuno mai deve essere discriminato. Finché ci sono le leggi che permettono la non obbligatorietà, chi organizza l'attività scolastica deve mettere in campo tutto quello che è possibile per garantire a coloro i quali, per scelta personale o dei propri genitori, abbiano pensato legittimamente di non vaccinarsi, di rendere sicura la loro permanenza negli istituti scolastici. Da risolvere anche il nodo cattedre vacanti, oltre 112.000, secondo i calcoli di CES Scuola. Gli altri paesi dell'Unione Europea, soprattutto quelli che puntano molto sulla ripresa del turismo, accolgono i visitatori purché siano vaccinati, l'Italia non ancora. Con un paradosso, anche un italiano che ha completato il percorso vaccinale e ha il certificato rilasciato dalla sua regione, se torna da un'altra nazione dell'Unione Europea, in cui la diffusione del virus è paragonabile a quella del nostro paese, deve comunque fare il tampone. Da oggi la Spagna accetta il certificato vaccinale, la Francia lo farà a metà settimana, la Grecia lo fa da tempo. Stanno già applicando il sistema del Green Pass europeo, in attesa che i tempi non propri fulmini dell'Unione Europea lo renda operativo. Così, però, il turismo italiano è penalizzato rispetto ai vicini. Anche perché poi, dal 1 luglio, questo sistema dovrà diventare realtà. Se accogliere un vaccinato senza sottoporlo al test è un'imprudenza. Lo sarà anche tra un mese. Per l'Italia, adesso è urgente snellire le procedure, sia pure garantendo la sicurezza sanitaria per fare ripartire il turismo. Quest'anno le vacanze nel nostro paese costeranno il 15% in più rispetto al 2020, mentre in Spagna e Grecia i prezzi al momento rimangono stabili. Così molti prenotano all'estero, pure, chi magari ha il bonus vacanze in tasca. Il bonus vacanze, che nel caso delle famiglie numerose vale 500 euro di contributo spendibili in Italia, è stato modificato dal sostegno IBIS e può essere utilizzato ora anche quando si prenota nelle agenzie di viaggi. Sono stati generati 1,8 milioni di voucher con un importo compreso tra 150 e 500 euro, a seconda del nucleo richiedente. I single hanno diritto allo sconto minore, mentre i nuclei familiari di due persone hanno ottenuto 300 euro. Per un controvalore pari a 800 milioni di euro. Per gli interventi incentivati con il super bonus sarà sufficiente la comunicazione di inizio lavori asseverata, la CILA, e non sarà più necessaria la verifica di doppia conformità. Queste alcune delle novità più significative introdotte dal DL Semplificazioni, che equipara, in termini di adempimenti burocratici, il super bonus a tutti gli altri crediti di imposta edilizi. Obiettivo prioritario? Quello di accelerare l'avvio dei cantieri, soprattutto nei condomini. Gli interventi realizzati per l'efficientamento energetico costituiscono interventi di manutenzione straordinaria e sono realizzabili, come detto, mediante previa presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata, che non deve passare al baglio delle autorità e non richiede il rilascio di alcuna autorizzazione. Fa fede, detta altrimenti, la relazione del tecnico. Restano esclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione. La semplificazione dell'iter edilizio burocratico necessario per dare avvio ai lavori e accedere, senza preclusione alcuna, al beneficio del super bonus, appare in linea con il chiaro intento del legislatore, volto a dare massima applicazione alla maxiletrazione per dispiegare al meglio l'obiettivo, considerato prioritario dell'efficientamento energetico degli edifici. Rimettere le periferie al centro è questa una tra le proposte lanciate questa mattina dal candidato sindaco del centro-sinistra e Movimento 5 Stelle Gaetano Manfredi nel corso della presentazione alla stampa della sua candidatura. L'ex ministro dell'università presenterà dei progetti bandiera, spiegato per ogni municipalità. Napoli non si ferma a Chiaia e Posillipo. Questa città vive grandi ferite per i divari ampi che ha al suo interno. Le periferie sono un'opportunità, ascoltiamo. Ci sono due temi che sono molto importanti. Il tema dei trasporti, cioè noi dobbiamo avere un trasporto urbano che sia in grado di poter connettere la città bene. Poi c'è un altro tema. Noi dobbiamo oggi fare in modo che in ogni municipalità ci siano dei servizi. Non possiamo avere solo quartieri dormitorio. Dobbiamo avere un modello di città dove in ogni municipalità ci siano dei servizi efficienti. La scommessa da vincere è portare il mondo a Napoli e portare Napoli nel mondo. L'obiettivo è portare questa città nel 2026 a essere molto diversa, una città più semplice, organizzata ma anche ricca ed inclusiva. Manfredi ha assicurato attenzione anche per l'area metropolitana che conta ricordato milioni di abitanti. La grande forza di Napoli sta anche nella sua città metropolitana, tra le più grandi d'Italia. Lo sviluppo del capoluogo partenopeo per l'ex rettore della Federico II deve partire anche dalla tutela del patrimonio pubblico, ma integrando questo, ha detto, con le iniziative private, favorendo quindi gli investimenti nel rapporto pubblico-privato. Infine, spazio per una battuta sul tifo da stadio. Si è detto che da ragazzino ero giuventino, io sono giuventino. Io ho un grande amore per la città, un grande amore anche per la squadra, perché non ci può essere una grande Napoli se non c'è un grande Napoli. E io da sindaco farò di tutto per fare in modo che veramente la squadra possa essere un simbolo, un esempio positivo della città. La Fondazione Polis, composta dai familiari delle vittime innocenti della criminalità, ha rinnovato il protocollo d'intesa con l'Ordine degli psicologi della Campania per offrire un sostegno ai familiari delle vittime, un percorso fondamentale per chi purtroppo è stato privato della vicinanza di un caro. Ascoltiamo Don Tonino Palmese, presidente della Fondazione. Vogliamo dare voce a questo percorso, ufficializzando questo protocollo. Poi questo percorso proseguirà sotto traccia, in silenzio, attraverso questa prossimità che è tipica anche della psicologia, e quindi è tipica anche di chi si prende cura delle ferite di questi carissimi familiari. La situazione sociale ai tempi del Covid, interpretata dal presidente dell'Ordine, Armando Cozzuto. Sicuramente questa pandemia ha esacerbato tutta una serie di vissuti, ha fatto venire fuori quelle che sono delle emozioni, che possono in alcuni casi venire a configurare dei mostri, ma in altri possono essere anche i veicoli di messaggi importanti che le persone intendevano forse portare avanti già da tempo. Ascoltiamo la presidente del comitato scientifico della Fondazione Polis, Enrica Amaturo. Sicuramente, oltre al danno economico, la principale lesione che viene fatta ai familiari di una vittima è di tipo psicologico, e quindi la Fondazione, nel suo lavoro di accompagnamento, cerca anche di offrire, tramite questo protocollo d'intesa con gli psicologi, un sostegno in questo difficile, difficilissimo percorso di ripresa. Ecco le testimonianze di Maria Romano e Meri Colonna, sorelle di Attilio Romano e Ciro Colonna, vittime innocenti per mano criminale. Per noi significa tanto, perché innanzitutto significa che non siamo soli, e quello penso che siamo una delle cose più importanti, perché questa comunque è una battaglia abbastanza tosta da combattere. Ho sempre avuto fiducia nella giustizia e sono, tra virgolette, una delle persone fortunate, perché mio fratello ha avuto giustizia e i killer che l'hanno ucciso sono assicurati in carcere. Oltre 160 miliardi di euro, a tantamonti il tesoretto di risorse europee per il mezzogiorno, Mara Garfagna, ministro per il Sud, tra gli ospiti di Forum in Masseria, parla di un'occasione storica per avere in cinque anni un mezzogiorno d'Italia più connesso. Il ministro ha preso parte al panel Infrastrutture, anello di congiunzione tra domanda e offerta, moderato da Bruno Vespa. Ci consentiranno in cinque anni di avere un Sud più connesso, con l'alta velocità ovunque, con la banda larga ovunque. E sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza la Garfagna avverte non si tratta di un libro dei sogni. Le opere dovranno necessariamente essere ultimate entro il 2026, pena la perdita delle risorse. All'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono stati inseriti anche degli investimenti per ammodernare e potenziare le reti ferroviarie regionali e anche le ferrovie storiche. Questo in particolare attrarrà particolarmente i turisti. Ma penso anche agli investimenti sui borghi storici, oltre un miliardo di euro. Penso anche agli investimenti sulle reti viarie per raggiungere le aree interne del nostro Paese. Questi sono tutti interventi che dovranno concludersi necessariamente entro il 2026 e altri, quelli inseriti nel fondo complementare, entro il 2030. Allora abbiamo stanziato un miliardo e duecento milioni di euro, sempre da spendere entro il 2026, per potenziare e ammodernare i porti del mezzogiorno. E 650 milioni di euro per infrastrutturare le zone economiche speciali. Ma sarà anche più conveniente investire nelle ZES, perché abbiamo aumentato il credito d'imposta da 50 a 100 milioni di euro e lo abbiamo esteso anche bene i mobili strumentali. Quindi una rivoluzione. L'ospedale Frangipane è verso la normalità. Si svuota sempre di più anche l'area Covid dedicata. E dopo la riconversione di medicina e terapia intensiva in reparti ordinari, ora Direzione Sanitaria e Generale lavorano per riportare nella loro originaria sede anche gli ambulatori specialistici. Sede in cui è attualmente dislocato il MABS, il centro per le terapie monoclonali anti-Covid, che a giorni sarà trasferito nell'area Covid. La struttura si riprende dunque i suoi spazi e si rimette a regime anche per le patologie ordinarie. Si lavora per il potenziamento del presidio ospedaliero, che rassicura Morgante e diventerà un DEA di primo livello. L'obiettivo è rilanciare di nuovo l'ospedale nelle sue attività e quindi nelle varie programmazioni che tra l'altro sono in corsa. Quindi come DEA di primo livello. Come DEA di primo livello, esattamente. Possiamo assicurare su queste perplessità e paure che ci sono in giro. Certamente che lo possiamo assicurare perché, diciamo che, come si sa, si sta lavorando per la realizzazione della radioterapia. Oramai è stato approvato il progetto. Siamo insomma addirittura d'arrivo, quindi il Ministero ha giorni per dare l'ok per l'installazione di una nuova risonanza magnetica. Ma oltre a questo naturalmente l'obiettivo è che chiudiamo prima possibile l'area Covid, quindi significa che andremo nella normalità e quindi lavoriamo sui nuovi reparti che è appunto l'obiettivo più importante per raggiungere finalmente l'obiettivo che tutti quanti auspichiamo e che è appunto la realizzazione DEA di primo livello. La farmacia è sicuramente il presidio sanitario dove la maggior parte dei pazienti si sentono a proprio agio e ascoltati nel miglior modo possibile, soprattutto se è quella di fiducia. Dal 7 giugno sono disponibili le dosi del vaccino Johnson & Johnson monodose nelle farmacie di Napoli e provincia che saranno somministrate ai cittadini di età compresa tra i 18 e i 59 anni. In totale sono 400 le farmacie che hanno aderito all'iniziativa. Basta rivolgersi ad una delle farmacie indicate da Federpharma e prenotarsi. Ascoltiamo. Grazie a questa possibilità che ci è stata concessa le persone possono venire direttamente in farmacia, evitano di fare lunghe attese a volte ai centri vaccinali e possono soprattutto trovare persone che loro già conoscono che li possono assistere in questo percorso. Si viene in farmacia e possono prenotarsi, quindi lasciano i loro dati e a strettissimo giro, due o tre giorni massimo, vengono convocati direttamente in farmacia e senza alcuna attesa fanno la vaccinazione. Sta andando bene. Johnson è un vaccino molto maneggevole. Le persone sono ben contente di venirsi a vaccinare e vaccinarsi soprattutto nella farmacia di riferimento. Infatti noi siamo in prima linea per il Covid fin dall'inizio della pandemia. Oggi lo siamo ancora di più. Entusiasmo e serenità per i primi pazienti che hanno deciso di rivolgersi in farmacia per evitare le lunghe file degli hub e anche le difficoltà per la prenotazione. Mi sento più libero. L'unica cosa è questa. Mi sento libero di fare qualsiasi cosa. Mi pare la comodità di non attendere troppo i tempi lunghi e poi c'è un altro servizio. Posso fare viaggi con l'aereo, fare tutto cosa. Finalmente sì. Possiamo fare il vaccino così possiamo essere liberi tutti quanti a viaggiare, a uscire. In provincia di Avellino ad oggi il 79% delle persone che ha aderito alla campagna vaccinale ha ricevuto la prima dose. Si tratta di 203.671 soggetti. La percentuale scende alla 30. Se parliamo di ciclo chiuso e immunizzazione raggiunta sono 80.746 gli irpini che hanno ricevuto anche la seconda dose. Ciò nonostante rimane alta la quota di persone che non ha chiesto la vaccinazione. Per essere precisi non ha ancora provveduto alla prenotazione attraverso l'apposita piattaforma online della regione campagna. Facciamoci aiutare dai numeri. Stando ai dati forniti dall'ASRA di Avellino allo stato attuale nella nostra provincia sono 255.483 le persone che hanno aderito alla campagna vaccinale contro il Covid-19. Il servizio demografico dell'Istat ci fornisce invece il dato sulla platea di riferimento. I vaccinabili rappresentati dalla fascia di età 12, 100 e più anni. In Irpinia sono 368.909. Facile fare due conti all'appello, mancano 113.426 persone, il 30%. Praticamente un irpino vaccinabile su tre è per ora nel limbo, meglio ancora in panchina, non ha ancora optato per la vaccinazione che, come è doveroso ricordare, è facoltativa. Arrivava dalla Spagna e dai Paesi Bassi la droga che veniva acquistata e venduta attraverso l'organizzazione criminale che faceva capo a Vincenzo Starita. L'organizzazione è stata sgominata attraverso l'operazione condotta dalla squadra mobile della Questura di Salerno. All'alba di oggi, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, sono in totale 11 gli arrestati, 7 in carcere e 3 ai domiciliari, ritenuti responsabili a vario titolo di far parte di un sodalizio criminale in grado di gestire il traffico di droga su un ampio territorio, principalmente Salerno, Scafati e nella zona vesuviana dell'Interland napoletano e tra l'altro in stretto rapporto con gruppi delinquenziali presenti nell'agronocerino sarnese, ma anche con associazioni criminali attive a livello internazionale. Cocaina, crack, hashish e marijuana, provenienti da Spagna e dai Paesi Bassi, venivano acquistati da Starita, soggetto gravato da numerosi pregiudizi penali e di polizia proprio per traffico di sostanze stupefacenti. La droga veniva poi rivenduta grazie alla rete di rapporti intrattenuta con la criminalità locale e con organizzazioni criminali estere, riuscendo ad organizzare trasporti contingenti quantitativi di sostanza stupefacenti. La conferma è che nel corso delle indagini sono infatti state tratte in arresto due persone in flagranza di reato sorprese a trasportare uno droga occultata in un rimorchio, un altro invece è stato trovato in possesso di 11 chili di cocaina. Durante le indagini è stata acquisita una mole considerevole di elementi di prova nei confronti di tutti i soggetti destinatari delle ordinanze di custodia cautelare. Al momento risulta irreperibile ed è ricercato una sola persona destinatario di una misura cautelare in carcere. Gates allude a passaggi che rendono possibile la connessione tra momenti storici distanti e diversi scenari ed è questo il nome scelto per la mostra dell'artista Diego Cibelli. Promossa dall'Istituto Caselli e Real Fabbrica di Capodimonte, l'esposizione rientra nel progetto vincitore del programma Per chi crea, promosso dal MIBACT e gestito da CIA a supporto della creatività e della promozione culturale dei giovani. La mostra cura di Alessandra Troncone e Walter Luca De Bartolomeis sarà visibile fino alla fine di giugno. Sentiamo la curatrice Alessandra Troncone. La mostra Gates di Diego Cibelli, qui all'Istituto Caselli e Real Fabbrica di Capodimonte, lavora sull'idea dell'attraversamento, un attraversamento culturale grazie alle referenze che l'artista ha collezionato da antichi volumi, ma anche un attraversamento in qualche modo fisico che ci porta a rivivere tutto questo patrimonio sia in forma grafica sia sulla superficie di queste tavolette di ceramica che compongono la mostra. Diego Cibelli, napoletano, è un artista alla cui formazione si divide tra le arti figurative e il design. Dal 2015 utilizza la ceramica quale mezzo espressivo privilegiato, riattualizzato alla luce di temi e soggetti contemporanei. Nel 2019 è il risultato vincitore del premio Italia-Argentina. Sue opere sono state esposte presso istituzioni italiane e straniere. Ha collezionato un repertorio di referenze visive che sono state successivamente mescolate. Lo spettatore è quindi invitato a fare un'esperienza dove la ricchezza di questo immenso archivio visivo rivive materiali diversi, da inserti specchianti a componenti organiche, suggerendo un deposito di reperti archeologici ma anche un cantiere aperto alla sperimentazione alimentando nuove narrazioni che prendono forma tra passato, presente e futuro. Sentiamo su quest'ultimo lavoro l'artista Diego Cibelli. Qui mostra nel progetto Gates si vedono 130 pietre composte di diverse terre. Su ogni pietra viene riportato diverse incisioni che appunto appartengono al periodo borbonico. Sono incisioni che parlano dell'interesse che Carlo di Borboni aveva verso la cultura, ma Carlo di Borboni ha intuito molto bene che la cultura non è solo osservanza dell'antico. Con la cultura infatti si possono attuare dei veri e propri programmi politici. Infatti lui riesce in qualche modo a riportare tutte queste antichità perché voleva in qualche modo far emergere che qui a Napoli avevamo qualcosa di molto prezioso, un attraversamento, una porta che in qualche modo ci potesse condurre nel passato. Quindi interessato a questo rapporto che possiamo intrattenere con la storia di dialogo, di continuità e non di mero riportamento, ho deciso di lavorare su queste referenze, quindi che appartengono a questo periodo. Diocesi di Cerreto San Nita Telese Sant'Agata de Goti il 12 giugno 2021, alle ore 17.30, in piazza San Martino a Cerreto San Nita si terrà l'ordinazione episcopale e l'inizio del ministero pastorale di Monsignor Giuseppe Mazzafaro. A causa delle normative sanitarie anti-covid-19, l'accesso alla piazza e alla celebrazione sarà permesso esclusivamente a coloro che esibiranno il pass nominativo. Sarà possibile unirsi spiritualmente alla celebrazione grazie alla diretta tv su MediaTv, canale 86 del Digitale Terrestre, e alla diretta streaming sui canali Facebook e YouTube della nostra diocesi e sul sito internet www.diocesicerreto.it. Buona giornata. giornata da Nikos Chiodetto. Mercoledì con l'anticiclone che terrà i suoi massimi ancora un po' ad ovest dell'Italia, possiamo osservarlo difatti tra l'Inghilterra, parte di Francia e penisola iberica. Permangono quindi condizioni a tratti instabili sull'Europa centro-orientale. Andiamo al dettaglio dell'Italia, zoom precipitazioni, una mattinata buona, discreta, con più sole, c'è minor rischio in realtà di temporali rispetto alla giornata di martedì, ma sempre durante il pomeriggio osservate qualche occasionale. C'è la temporalesca più a ridosso di rilevi montuosi del nord e poi lungo l'Appennino. In sintesi, di fatti sarà una giornata abbastanza buona nella sua prima parte e durante il pomeriggio qualche nube torreggiante e cumuliforme interesserà parte del nord-ovest, i rilevi alpini, anche l'Appennino con sporadici temporali, mentre sulle aree di mare più sole. Temperature che al centro-norte comunque sfioreranno i 30 gradi, sarà comunque una giornata assolutamente estiva.